Si perde nel mito la storia di Etesio, inviato da Zeus a portare refrigerio agli uomini, alle piante e agli animali per 40 giorni. Come un miracolo che si ripete ogni anno, il vento Etesio mormora tra i tronchi, gli arbusti e le foglie, portando con sé il respiro del mare. Turbinando nell'aria le fragranze della flora mediterranea, accarezzando il frutto della vite, con gli acini gonfi di sole. Etesio è una carezza di seta che libera i profumi dell'estate, conducendo i sensi in una danza antica e sempre viva. Etesio, il nuovo vino delle Cantine de Falco, incanta e avvolge l'anima in un vortice di emozioni eteree.